Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto una nuova tattica. Tattiche personalizzate e distruzione di giocatore per un 5-3-2. Le tattiche sono tratte da un pro player del team Gullit, che ringrazio chiaramente. Come vedete, stile difensivo equilibrato, ampiezza 40, profondità 50. Per quanto riguarda l'attacco a una costruzione di manovra palla lunga, occasioni equilibrato, è importante l'ampiezza 65. Poi, giocatore in area, lui suggerisce 4, uno negli angoli, uno nelle punizioni. Io personalmente, nei calci d'angoli, suggerisco solitamente di mettere almeno 2, se non anche 3 giocatori. Poi, chiaramente, quello dipende da come gestite voi il discorso del calcio piazzato da corner. Nel frattempo, mentre parlo, potete vedere qua sotto, e fare un fermo immagine, scorrere tutte le tattiche e le istruzioni giocatore dei vari giocatori che sono in squadra. Chiaramente, in questo caso, vedete, non lo so, Rashford, Rudiger, Colomoni, eccetera, ovviamente vanno applicati ai vostri giocatori che state utilizzando. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate, se proverete queste tattiche, se avete già provato un 5-3-2, e fatemi sapere nei commenti quale altro modulo vorreste vedere nei prossimi giorni, qua sul mio canale YouTube. Ciao e grazie, alla prossima!